Non si fermano gli sbarchi in Calabria. Una barca a vela con a bordo 30 migranti di varie nazionalità, tutti di sesso maschile, ha cercato di raggiungere la spiaggia di Brancaleone nella Locride, incagliandosi però ad alcune decine di metri dalla riva. Ad accorgersi del tentativo di sbarco sono stati i militari della Guardia Costiera di Roccella Ionica e i carabinieri della Compagnia di Bianco impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio via mare e via terra. Dopo l'abordaggio e il disincagliamento il natante con a bordo dei migranti, lungo una quindicina di metri, è stato trainato in sicurezza fin dentro il porto delle Grazie di Roccella Ionica dai militari della Guardia Costiera. Appena sbarcati nella struttura portuale i migranti sono stati sottoposti al test del tampone molecolare anti-covid-19 e in seguito, su disposizione della prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati in una struttura di primo soccorso e accoglienza messa a disposizione dal comune della Locride. A coordinare le indagini sull'ennesimo sbarco avvenuto lungo la costa Ionica Regina sono gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato di Siderno. Con questo arrivo è salito a ben nove il numero degli sbarchi di migranti nella sola Locride negli ultimi 40 giorni.